Aspettavo quel momento da tutta la vita. Il momento in cui tutto comincia ad avere un senso. C'è un camion, film o senza benzina in città, trasporta roba che serve alla band stasera e tu me la devi riportare, ok? Sai che cosa fare? Un'altra sera, un altro concerto. Faccio quello che mi dicono. Vado dove mi mandano. Ma certe volte il momento che cambia tutto è quello che non avevi previsto. Vado dove mi mandano. Vado dove mi mandano. Aspettavo. Vado dove mi mandano. opinion. Vado dove mi mandano. Grazie a tutti.